Ciao a tutti, oggi con questo video tutorial voglio farvi vedere come si realizza il punto freccia con la F di Firenze, il punto freccia realizzato però con l'uncinetto normale, in molte mi avete scritto che non riuscite a trovarlo realizzato con l'uncinetto normale ma solo con l'uncinetto tunisino e io infatti il video tutorial oggi ve lo faccio con l'uncinetto normale e questo anche per esaudire le molte richieste di punti operati un po' particolari realizzati ad uncinetto e questo è un punto molto molto bello che può essere utilizzato sia in verticale da una parte o dall'altra, vedete qui avete le vostre frecce, ci sono le frecce, si vedono bene, la punta è qui il bassoncino della freccia e poi potete utilizzarlo volendo anche in maniera orizzontale, in maniera orizzontale viene questo lavoro tipo zig zag, in maniera verticale viene la freccia verso l'alto o verso il basso, bene andiamo subito a vedere come si realizza il nostro punto freccia e l'uncinetto per farvi vedere la realizzazione del punto io ve lo faccio vedere con un uncinetto molto grande perché un uncinetto numero 6 e mezzo è un filato grosso e intanto utilizzo questo filato della Banggood quello che mi ha mandato la Banggood così alla fine faccio un viaggio e due servizi così vi dico anche com'è lavorato questo filato per realizzare il nostro punto freccia noi abbiamo bisogno di fare un multiplo di 4 maglie più 2 quindi facciamo la nostra catenella lunga quanto ci serve, l'importante è che sia un multiplo di 4 maglie e al termine di questo multiplo di 4 maglie aggiungerete 2 maglie io infatti lo farò di 18 maglie, quindi faccio la mia catenella iniziale anzi lo facciamo un po' più grande, lo facciamo di 24 maglie, quindi poi alla fine ne farò 26 e faccio la mia catenella iniziale di 26 maglie quindi una, il mio capietto iniziale non lo stringo, quindi una, due, tre, quattro, fino a 26 terminate la catenella di 26 maglie vado a realizzare due righe di andata e ritorno a maglia bassa quindi una, due, tre, fino a 26 per due volte una volta che abbiamo terminato di lavorare le due righe di maglia bassa voltiamo e andiamo a realizzare una, due, tre e quattro catenelle saltiamo tre maglie di base, ovviamente saltiamo la prima ne saltiamo ancora tre, una, due, tre nella quinta, praticamente uno, due, tre, quattro, cinque nella quinta entriamo e facciamo dopo aver caricato due volte il filo sull'uncinetto una maglia altissima una e tre ci siamo? adesso carichiamo il filo sull'uncinetto una volta torniamo indietro nel punto da dietro quindi avvolgiamo il punto da dietro e rientriamo nella prima delle tre maglie che abbiamo saltato di base quindi torniamo indietro di tre una, due, tre in questa maglia entriamo e andiamo a realizzare una maglia alta la prima di tre maglie alte praticamente i tre punti che abbiamo saltato li ricopriamo con tre maglie alte quindi il primo poi ricarichiamo il filo sempre da dietro entriamo e andiamo a puntarci nel secondo punto qui e facciamo un'altra maglia alta terza volta da sotto entriamo il punto è questo entriamo e facciamo la terza maglia alta ripetiamo due volte il filo sull'uncinetto saltiamo tre maglie di base nella quarta ci puntiamo e andiamo a fare la maglia altissima uno, due e tre qui ne abbiamo saltate quattro perché la prima è quella da dove siamo partiti con le tre catenelle che vanno a sostituirmi la prima maglia del giro ora ne dobbiamo saltare sempre tre quindi saltiamo le tre maglie facciamo la maglia altissima carichiamo il filo sull'uncinetto passiamo da dietro la maglia altissima e andiamo a puntare l'uncinetto nella prima delle tre maglie che abbiamo saltato quindi abbiamo una, due, tre maglie nella prima ci puntiamo e facciamo la prima di tre maglie alte quindi una filo sull'uncinetto nuovamente da dietro entro due maglie alta nuovamente filo sull'uncinetto entro da sotto il punto praticamente da sotto la maglia altissima vado ad agganciarmi nel punto di base e faccio la mia terza maglia alta due volte il filo sull'uncinetto salto tre maglie di base nella quarta mi punto e realizzo la mia maglia altissima o doppia maglia alta che dir si voglia filo sull'uncinetto passo dietro la maglia altissima mi punto nella prima delle tre maglie indietro di base che ho saltato e faccio una maglia alta filo sull'uncinetto maglia di base successiva altra maglia alta filo sull'uncinetto ultima maglia di base successiva prima della maglia altissima e faccio un'altra maglia alta due volte il filo sull'uncinetto una, due, tre le salto nella quarta mi punto e faccio la maglia altissima filo sull'uncinetto torno indietro da dietro quindi non dalla parte davanti ma da dietro così mi punto nella prima delle maglie di base saltate e realizzo la maglia alta una nuovamente due nuovamente tre due volte il filo sull'uncinetto uno, due, tre nella quarta mi punto maglia altissima una due e tre maglia alta però vedete che una volta che avete iniziato dopo un paio di giri vedrete che diventa veramente semplicissimo adesso chiudiamo con nuovamente due volte il filo sull'uncinetto uno, due, tre saltiamo tre maglie di base nella quarta ci puntiamo facciamo l'ultima maglia altissima filo sull'uncinetto torniamo indietro da dietro di tre maglie e facciamo tre maglie alte una due e tre chiudiamo definitivamente tutto il giro con una maglia alta nell'ultima maglia di base quindi una e una due voltiamo il lavoro quattro catenelle andiamo ad inserirci adesso nell'archetto vedete che noi fra i gruppi di tre maglie alte abbiamo un archetto ci inseriamo qui e andiamo a fare una maglia altissima quindi due volte il filo sull'uncinetto uno, due e tre adesso torniamo di nuovo indietro però non andremo a fare più le maglie alte dalla parte retro le facciamo dal davanti e andiamo a fare tre maglie alte in costa davanti quindi carichiamo il filo sull'uncinetto entriamo vedete che il punto adesso voi ce l'avete in rilievo sul davanti vedete vi spunta verso di voi voi andate semplicemente a prendere caricare il filo sull'uncinetto e a prendere il punto in costa quindi prendendolo lateralmente e andate a lavorarvi la vostra maglia alta per tre volte consecutive quindi uno carico il filo entro lateralmente carico il filo nuovamente per la terza volta carico il filo e mi faccio la mia terza maglia alta in costa ora nuovamente carico due volte il filo sull'uncinetto salto le tre maglie alte successive mi inserisco nell'archetto e vado a realizzare la maglia altissima così e di nuovo tre maglie alte in costa quindi carico il filo vado ad inserirmi lateralmente nella prima delle tre maglie alte indietro quindi in questa e faccio la mia maglia alta carico il filo entro nella seconda lateralmente quindi passo lateralmente dalla maglia alta sotto e faccio l'altra maglia alta per la terza volta così ve lo faccio vedere ancora una volta due volte il filo sull'uncinetto salto le tre maglie alte successive entro nell'archetto quello dopo e faccio la mia maglia altissima uno due e tre carico il filo sull'uncinetto e vado lateralmente nella prima delle tre maglie alte una seconda due e faccio le mie tre maglie alte in costa e tre e procedo così sino alla fine della riga termino la riga nuovamente andando questa volta però ad agganciarmi all'ultimo archetto quindi due fili sull'uncinetto uno due tre faccio la mia maglia altissima e torno indietro delle mie tre classiche maglie alte facendo tre maglie alte in costa una due e tre chiudo il tutto con una maglia alta tornando indietro di tre maglie da sotto una due tre quindi nella prima sarebbe poi l'ultima della riga con una maglia alta nel giro successivo andiamo a realizzare solo tre catenelle iniziali perché chiudendo il giro precedente con una maglia alta ci alziamo direttamente di una maglia quindi abbiamo bisogno solo di tre catenelle quindi facciamo due volte il filo sull'uncinetto entriamo nel punto nell'archetto successivo e andiamo a realizzare la nostra maglia altissima uno due e tre adesso filo sull'uncinetto torniamo indietro quindi passiamo dietro al punto e andiamo a lavorare le nostre tre maglie alte nei tre punti di base che abbiamo sotto quindi nelle tre maglie alte che abbiamo sotto una due e tre due volte il filo sull'uncinetto saltiamo le tre maglie entriamo nell'archetto successivo maglia altissima così come abbiamo fatto nel primo giro solo che in questo caso ci andiamo ad inserire negli archetti quindi filo sull'uncinetto torniamo indietro nelle tre maglie di base successive facciamo tre maglie alte quindi una due passando da dietro quindi la maglia altissima in questo caso ve lo dovete tenere sul davanti due e tre e procedete così sino alla fine della riga anche in questo caso chiudiamo nell'ultimo nell'ultimo archetto della riga con una maglia altissima e poi torniamo indietro anche in questo caso nelle tre maglie alte nelle tre maglie alte precedenti scusate una due e tre ci chiudiamo con una maglia alta nell'ultima maglia della della riga voltiamo il lavoro e procediamo nuovamente con lo stesso discorso quindi maglia altissima nell'archetto essendo siamo nel retro adesso del lavoro le tre maglie alte le faremo in costa quindi carichiamo il filo sulla sull'uncinetto e andiamo a fare le nostre tre maglie alte in costa così come abbiamo fatto prima quindi una carichiamo entriamo lateralmente nella seconda facciamo la maglia alta carichiamo il filo entriamo lateralmente nell'ultima e facciamo la maglia alta e ricominciamo quindi maglia altissima saltiamo le tre maglie alte successive archetto maglia appunto altissima tre maglie alte in costa quindi facciamo carichiamo il filo sull'uncinetto torniamo indietro delle tre maglie e andiamo a farle in costa prendendola quindi lateralmente una due e procedete così sino alla fine della riga anche in questo caso chiudiamo con una maglia altissima nell'ultimo archetto torniamo indietro facciamo le tre maglie alte in costa e poi chiudiamo con una maglia alta nell'ultima maglia della riga vedete come si presenta una volta che avete terminato di lavorare il punto sono proprio delle piccole freccette e sono carine nel senso è un punto molto carino però è un punto molto pieno come vi dicevo prima quindi se volete fare una cosa molto ricca utilizzate cioè lo fate a ogni giro e tenete presente che prende un bel po' di filato questo punto poi ha una bivalenza nel senso che potete utilizzarlo sia lavorato per orizzontale sia poi montato in verticale vedete in modo che si vedano le frecce o che vanno verso il basso o che vanno verso l'alto in entrambi i casi è molto carino molto particolare come appunto messo per orizzontale fa questa sorta di zig zag se invece voi lo mettete in maniera verticale si vedono bene le frecce sia in verso l'alto che girato verso il basso ed è un punto molto carino se però poi voi lo volete realizzare meno fitto vi basterà fare due righe di maglia bassa tra un motivo e l'altro adesso io le faccio e poi vi faccio vedere la differenza che c'è tra i due modi di lavorarlo quello fitto e quello più rado ed eccolo qui come appare una volta che noi lo lavoriamo in maniera più rada nel senso facciamo due righe a punto frecce e due righe a maglia bassa due righe a punto frecce e due righe a maglia bassa possiamo fare tra i due due e una vi ricordo che il punto ha un diritto e un rovescio quindi se decidete di farlo rado dovete fare le righe di maglia bassa in multipli di due quindi due righe di maglia bassa quattro righe di maglia bassa e poi due righe di punto frecce il punto frecce è questo io spero di avervi accontentato e di aver accontentato tutte appunto le amiche che mi avevano chiesto la realizzazione di questo punto ultima ma non ultima l'amica Isha alla quale mando un bacione grande grande bene a questo punto l'avrete capito il tutorial è terminato io come al solito vi ringrazio per avermi seguito vi aspetto tutti tra le pagine dei nostri post su facebook nel gruppo gli amici dell'angolo di Chris vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial ciao 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 ciao